Siamo un gruppo di lavoro, siamo arrivati alle 9 regolari, un quarto d'ora, 20 minuti prima e abbiamo cominciato a vedere questi orari che aumentavano di ritardo, quindi da 30 minuti, 45, 50, adesso da 60 siamo arrivati a 70 minuti. Stiamo provando a trovare delle soluzioni alternative in attesa di trovare qualche cosa che possa portarci dove dobbiamo andare verso Bologna. Questa mattina è che sono arrabbiata. Sei arrabbiatissima, perché? Perché praticamente il treno ha un 30-40 minuti di ritardo che continuano ad aumentare perché dovevo andare a Napoli e dovevo andare a Napoli per riunione di lavoro da Roma e non è possibile che ogni volta a lunedì c'è sempre un ritardo, un guasto. Questo vorrà dire che la riunione, da iniziare a l'una, arriverò sicuramente in ritardo. Voi da quanto tempo state aspettando? Da almeno un'oretta e mezza. Dalle 9.10, ora sono le 10.31, quindi con un treno doveva partire alle 9.30, che non poteva fermarsi a termini, che abbiamo chiesto se poteva partire da Tiburtina, non ce l'hanno saputo dire perché altrimenti saremmo corsi là, invece partiva da Tiburtina. Beh, no, il mio per ora ha solo 35 minuti di ritardo, anche io devo andare a Napoli e speriamo che siano 35 e non aumenti col tempo. Da 30 minuti per Milano, per lavoro. Qual è il motivo? Ve l'hanno spiegato. Di un guasto penso qui alla stazione Termini elettronico, che quindi ha condizionato gli arrivi dei treni ad alta velocità, quindi spostandoli su altre rotte, quelle più comunali, provinciali. di un guasto penso qui alla stazione Termini elettronico, che quindi ha condizionato gli arrivi dei treni,